Grazie a tutti Salve, sono Alessandra è il prodotto dolci tipici siciliani di qualità interamente lavorato a mano nel rispetto delle pregiate ricette tradizionali siamo fortemente legati al territorio il nostro laboratorio sorge alle pendici dell'Etna, Zafferana e Trinea e selezioniamo principalmente frutta secca di origine siciliana fortemente proprio legati al territorio andiamo ad Avola, a Bronte dove abbiamo la migliore frutta secca siciliana e non c'è bisogno di andare a sofisticare quindi il prodotto con nessuna componente artificiale chimica i nostri prodotti principali sono le foglie da te si tratta di un biscottino sottile, una croccante cialda nata per essere degustata durante l'ora del tè in realtà va bene con un falsito, una malvasia non ci sono proprio limiti negli abbinamenti ricerchiamo solo la migliore materia prima per offrire un prodotto di qualità superiore tutto nasce dalla ricetta e dall'amore per la nostra terra, le sue tradizioni durante le feste comandate ci univamo tutti in famiglia per la preparazione di questi dolci tipici da quella che è la cialda del cannolo a quelle che sono le paste di margola e ricerchiamo tutte le vecchie ricette per mantenere qualità genuina prodotti di qualità superiore però dolci di una volta noi diciamo ma come si facevano una volta senza utilizzare le sofisticazioni che la chimica oggigiorno purtroppo dà e offre a tutti i laboratori bene, grazie Vissani, grazie